Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì, eccoci ritrovati con l'appuntamento mattutino delle pagelle. È tarda notte, sto registrando, ho ancora la sciarpa addosso ma ho deciso di volermi vivere fino in fondo questa serata e quindi fino all'ora di andare a letto questa sciarpa non me la voglio togliere perché non sappiamo quanto ancora andremo avanti appunto in questa competizione se riusciremo a superare i semifinali e quindi voglio godermi questa serata tipicamente bianconera in cui le cose sono andate quasi completamente per il verso giusto lato appunto sentenza e decisamente per il verso giusto lato qualificazione anche se di fronte a una prestazione ancora non del tutto convincente. Io vi ricordo se non l'avete visto di guardare pure il video post partita ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede per farvi un'idea di quello che è stato il mio commento a caldo del match. 5 e mezzo a Massimiliano Allegri, proprio per quello che dicevo prima e proprio per quello che dicevo anche nel post partita la gara non mi ha convinto completamente, tra l'altro a Juventus questa sera scende in campo con una formazione tra virgolette inedita perché è un misto tra 3-5-2 e 4-3-3 che diventa un 4-3-3 sempre più puro invece nel secondo tempo. Diversi giocatori chiave non sono stati della partita dal primo minuto, non abbiamo visto Kostic, non abbiamo visto Fagioli Fagioli tra l'altro non è nemmeno entrato, da un po' di tempo a questa parte era diventato un titolare gatti che non abbiamo visto nella formazione iniziale, insomma Allegri ha optato per cambiare diversi interpreti rispetto a quelli che erano diventati tra virgolette i titolari o comunque i giocatori da attendersi quindi una sorta di Juve sperimentale, ecco mi piacerebbe capire anche il motivo di fronte a questo cambio perché ripeto la prestazione della Juve secondo me non è stata ottimale e quindi la qualificazione tra andata e ritorno è stata conquistata per merito di valori individuali molto molto alti con uno sporting che comunque ha messo in serie difficoltà tra la Juventus nel finale sia l'andata sia il ritorno quindi l'atto qualificazione felicissimo però come dicevo anche ieri sera secondo me ci sono delle cose da rivedere a maggior ragione di fronte al fatto che continuiamo a non essere bravi nel cercare di organizzare le ripartenze se Allegri riuscirà a mettere mano a questa cosa e riuscire a migliorare l'approccio che ha la Juventus con la fase appunto di transizione positiva beh questa squadra può decisamente andare lontano e sognare in grande diversamente temo che sia necessario aggrapparsi sempre fortemente agli episodi che possono essere positivi così come possono essere negativi tra andata e ritorno con lo sporting mi sento di dire che la Juventus ha avuto sicuramente un risultato più ampio rispetto a quanto dimostrato sul campo me lo porto a casa sicuramente però attenzione al Siviglia che ha eliminato appunto il Manchester United che per quanto mi riguarda tra le squadre che era rimaste in competizione era quella con più probabilità di arrivare direttamente alla finale di Europa League e forse addirittura di alzarla Voto 6 è Scesni, lo sporting arriva spesso e volentieri dalle parti del portiere ma per fortuna calibra male non riesce quasi mai a trovare lo specchio della porta, quasi mai a tirare all'interno dei pali della traversa l'unica occasione in cui Scesni poteva riscattarsi è stato dagli 11 metri dove non è riuscito a leggere la traiettoria del rigorista dello sporting, in cronaca dicevano che solitamente lo tira in quella posizione invece questa volta optato per un rigore basso, centrale, forse un rigore della paura, un rigore della sicurezza Scesni non è riuscito a pararlo, per il resto una prestazione di ordinaria, una prestazione ordinaria da parte del portiere proprio perché non ci sono state necessità particolari, lo sporting spesso e volentieri arrivava lì tra l'altro tanti errori di duali anche della difesa della Juventus però poi per fortuna i piedi non erano proprio montati alla dritta e come dicevo prima gli episodi sono andati abbastanza a favore della Juventus Voto 5 ad Alexandro che al demerito di farsi trovare posizionato male in occasione della rimessa laterale da cui poi nasce il calcio di rigore appunto per lo sporting Lisbona su errore di rabbio, su fallo di rabbio però Alexandro è messo male, è troppo avanti e tra l'altro si fa superare in un paio di occasioni all'interno della stessa azione e in generale durante la partita non proprio la miglior condizione possibile per Alexandro che oggi torna nella sua versione primordiale quindi terzino-sinistro era stato un po' accantonato, accantonata la difesa 4 proprio perché sugli esterni bassi non avevamo la possibilità di coprire bene il campo con la batteria di terzino a disposizione beh anche questa sera Alexandro ci conferma che come difensore centrale nella difesa 3 è un conto come terzino invece in una difesa 4 fa decisamente più fatica faceva più fatica inizio anno, fa fatica anche adesso probabilmente non si può più tornare indietro il nuovo ruolo di Alexandro è al centro della difesa al centro della difesa ha giocato pure Bremer vedremo nella tarda mattinata immagino dopo che la Juventus si ritornerà a Torino quali saranno le condizioni appunto del colosso di Tapitanga speriamo di riaverlo il prima possibile a disposizione perché sicuramente anche lato sfida al Napoli lato appunto gara del 10 di maggio contro contro il Siviglia sarà importantissimo avere un giocatore che ha fatto una buona prestazione anche questa sera poi costretto a uscire per via di un fastidio dietro la gamba crociamo le dita speriamo che non sia niente di grave 5 e mezzo da Danilo che questa sera invece fa una prestazione non all'altezza della sua fama e della sua stagione un paio di errori, quell'autopalo un po' clamoroso del primo tempo quella brutta lettura invece nel secondo e comunque in generale da difensore centrale della difesa 4 l'ho visto un po' più leggerino rispetto al braccio di destra o di sinistra bene o male non vedo differenze quando gioca nella difesa 3 nella difesa 4 invece l'ho visto un po' più in difficoltà quindi non proprio la migliore prestazione stagionale di Danilo che per fortuna quegli errori poi non si trasformano in gol subiti dalle Juventus a maggior ragione sto pensando al macro errore di uscita nel secondo tempo come dicevamo prima anche nei confronti di Cesni poi gli attaccanti dello Sporting non sono riusciti a centrare lo specchio della porta la Juventus è giocata diversi giochi mi viene in mente questo mi viene in mente il tiro a porta vuota del loro capitano che non riesce a trovare l'impatto con il pallone anzi lo alza sopra la traversa tante occasioni dove la Juve ha ballato tremendamente, terribilmente dove una squadra, come dicevo nel video post partita con un'impronta difensiva non può permettersi così tante occasioni subite da parte degli avversari voto 6 a quadrado, io ho visto diverse pagelle che danno molto di più a quadrado che secondo me non ha fatto una brutta partita è stata una buona prestazione ma non ai livelli di 6,5 o 7 mi è sembrata una partita positiva di quadrado da 6 in pagella forse 6 più al massimo però 7 mi sembra veramente molto eccessivo sicuramente quadrado sta ritrovando un po' di smalto che durante questa stagione aveva perso non mi è assolutamente piaciuto quando ha tirato in porta su quella ripartenza però quadrado è stato uno dei più propositivi a cercare la ripartenza proprio su quella corsia di destra dobbiamo iniziare a sfruttarle meglio che quello che dicevo prima per Allegri bisogna organizzare meglio le ripartenze perché la Juventus, questo fondamentale è forte per caratteristiche dei giocatori e non è per niente forte invece per quello che riesce a dimostrare in campo voto 6 a Locatelli che ha fatto una partita come al solito di sacrificio una partita di contenimento una partita in cui difficilmente puoi valutare la prestazione nei metri in possesso palla negli ultimi metri in possesso palla proprio perché lì davanti alla difesa si preoccupa semplicemente di dare una mano di essere una sorta di diga uno degli interventi migliori della partita è sul finale a centrocampo quando tutta la panchina esulta proprio per quel recupero di Locatelli per il resto poco altro se non appunto una partita di sacrificio lotta, sudore e aiuto ai difensori centrali sei più a Miretti che è quello che mi è piaciuto un po' di più all'interno del centrocampo della Juventus tanto movimento senza palla anche un paio di occasioni in cui è riuscito a mettere dei palloni interessanti in mezzo viene schierato al posto di Fagioli io me lo aspettavo tra le linee invece gioca come mezzala di sinistra quindi spostando come mezzala di destra era un po' che non vedevamo Miretti da titolare magari in una gara con questa importanza penso che non abbia fatto male deve semplicemente trovare continuità all'interno della partita perché ogni tanto tende ad isolarsi voto 6 Arrabio che ha il merito di aver segnato l'undicesimo gol stagionale un gol importantissimo perché ci porta all'interno delle semifinali di Europa League e poi purtroppo c'è quella da fare i conti che è una sorta di media positiva per il gol e negativa per appunto il rigore procurato una sorta di ingenuità da parte di Arrabio però per fortuna un'ingenuità che ci fa qualificare fa tutto Arrabio nel bene e nel male un po' come Zidane nella finale mondiale che fa gol su rigore poi si fa buttare fuori e favorisce alla fine la vittoria finale dell'Italia quindi Arrabio che ci permette di andare in semifinale con un gol in mischia e per fare un parallelismo appunto con con il 2006 dato che prima avevamo parlato di Zidane possiamo dire un gol in mischia alla Pippo Inzaghi voto 6 meno a Chiesa che ho visto poco lucido quando la Juventus era in possesso della palla ma allora qui sorge spontanea una domanda quale dei giocatori della Juventus è apparso lucido con il pallone tra i piedi credo nessuno il titolo del post partita era abbiamo poco calcio ma abbiamo tanto cuore e in questo pensavo proprio Federico Chiesa perché si è vista una Juve vogliosa di portare a casa il risultato overall nel complesso non si è vista una gran partita da parte dei giocatori della Juventus Chiesa ha dato tutto quello che poteva dal punto di vista fisico dal punto di vista fisico credo che Chiesa abbia fatto un'ottima partita poi nelle scelte è sicuramente non il miglior Chiesa lontano dalla sua miglior condizione possibile lontano dall'essere di Chiesa che fa la differenza sugli esterni però ripeto io ho visto veramente poca pochissima Juventus quando la palla ce l'avevamo noi e là davanti il più pimpante mi è apparso appunto Chiesa seppur poco lucido 4 e mezzo a Vlaovic perché gli hanno fischiato anche un paio di falli che non esistevano mai nella storia dell'uomo eppure gli erano fischiati però sempre una gran fatica tenere quel pallone gran fatica interagire con i compagni gran fatica venire a cucire il gioco gran fatica quando la palla arriva a spalla dalla porta inizia a essere gran fatica anche quelle rare volte che gli arriva il pallone io credo come ho già detto che Vlaovic in questo momento abbia bisogno di non giocare titolare per un po' ha bisogno di ricaricarsi e di alleggerirsi perché la pressione è tanta non la sta reggendo nel migliore dei modi sicuramente per un attaccante questa Juve fa il gioco più difficile in assoluto e Vlaovic ha bisogno ora di ritrovare se stesso dal punto di vista psicologico per poter poi tornare ad essere un giocatore importante per questa Juve perché ormai Vlaovic semplicemente non segna da troppo tempo voto 5 Di Maria che mi è sembrato un giocatore terribilmente fuori dal gioco in questa partita è quello che dicevo prima per Chiesa almeno Chiesa è stato un po' pimpante Di Maria invece l'ho visto sempre isolato difficilmente riusciva a entrare all'interno della partita andare a prendere il pallone entrare in gioco come solo lui sa fare come tante volte ha fatto in questa stagione togliendoci le castagne dal fuoco come in tantissime partite quindi mi è sembrato una sorta di fantasma di Maria non è che partendo dalla destra ha bisogno di un ritmo più alto per far arrivare il pallone dei sovrapposizioni per far arrivare il pallone l'uniche due o tre volte che è entrato in possesso della sfera l'ho visto lontano dalla sua migliore condizione fisica possibile e forse anche psicologica non proprio il mio reddito di Maria stasera e poi Milik Gatti e Pogba tre ingressi tre cambi un cambio triplo Milik la davanti si mette poco fa c'è la prova a farcela c'è stata un'occasione in cui ha provato ad arrivare prima del portiere non c'è riuscito Gatti è entrato e ha distrutto un giocatore avversario ha tirato che gli ha calciato la faccia si è preso un cartellino giallo è la cosa per cui ricorderai Gatti nel ritorno all'andata certo il merito di segnare i gol del 1-0 al ritorno per aver distrutto un avversario per perdere tempo leggendo su Twitter mi ha fatto molto ridere e anche Pogba Pogba entra in campo si mette lì prova a trovare un attimo la sua dimensione anche lui prende un cartellino giallo in cui non era propriamente convinto forse arriva un po' più alto rispetto all'avversario quindi lo colpisce con il gomito e questo è stato e senza voto invece a Filippo Kostic che viene inserito al posto di chiesa per ripristinare in maniera concreta il 3-5-2 tornare un attimino alle vesti principali di questa Juventus e cercare di far passare il tempo in maniera un po' più tranquilla anche se come ribadivo anche prima di tranquillo c'è stato poco in questa partita la Juventus mi ha fatto dormire dei sonni davvero poco poco tranquilli e quindi queste ragazzi sono le pagelle nel pomeriggio cercheremo di portare un altro video che potrebbe essere la live reaction o comunque altre due parole di discussione su quelli che saranno i prossimi avversari dell'Europa League sulla sentenza insomma ci sono tantissimi argomenti in questo momento abbiamo soltanto l'imbarassata della scelta quindi fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti quale contenuto gradireste vedere maggiormente nel pomeriggio buona giornata dato che questo contenuto è uscito alle 7 di mattina e noi ci vediamo invece nel pomeriggio un abbraccio forza Juve cerchiamo di portarci a casa questa Europa League perché è sicuramente la nostra portata dobbiamo però migliorare in diversi aspetti all'interno del campo che ci sono